Musica Ringraziare i concittadini sparsi per il mondo e gli amici di Marano Marchesato e Dirente che puntualmente ogni anno si prodigano per rinnovare la festività del 3 maggio con le loro copiose offerte Grazie, grazie, mille e mille volte grazie a tutti voi e agli amici Giraldi Francesco, Cucunato Ettore, Chiappetta Domenico, Salituro Antonio, Ruffolo Daniela Muto Laura, Muto Antonio, Loizzo Antonio, Orrico Silvio, Bruno Francesco, Principe Sterina, Principe Valentina, Muto Francesco, Primicerio Annina e Chiappetta Arcangelo che con un grande spirito e amore cristiano ed immenso sacrificio hanno percorso le nostre contrade alla raccolta del danaro per rendere la festività del 3 maggio sempre più bella Grazie a loro è possibile vedere quest'anno il realizzarsi della festività in onore della mamma comune Di cuore vi ringrazio e vi auguro che per l'avvenire possiate essere sempre vicini alla Madonna e tramandare così la devozione che ci è stata consegnata dai nostri ave Grazie a tutti 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 Grazie a tutti